Musica Bentornati a tutti ragazzi con un altro episodio di Spiro Ares Adventure è passato davvero tanto tempo dall'ultimo episodio che ho fatto sono precisamente 20 giorni e che cosa andremo a vedere dopo questi 20 giorni in questo nuovo episodio di Spiro Ares Adventure? Seguitemi in questo video per scoprirlo Oggi parleremo della macchina dei trucchi La macchina dei trucchi è l'innovativa del gameplay di cui avevo accennato nell'episodio precedente che ha a che fare con l'inserire codici, trucchi e simili all'interno di Spiro Ares Adventure Questa macchina dei trucchi appare così è fatta in modo molto strano ci sono tubi, radar, ingranaggi, orologi contenitori di strano liquido viola tutti i messi alla rifusola sembra una macchina nata dal desiderio proibito di troppe macchine insieme insomma un ibrido bruttivo a vedersi e molto stravagante Comunque la macchina dei trucchi servirà appunto per inserire i trucchi in Spiro come vi ho appena detto Questa macchina dei trucchi ce n'è una in ogni mondo ed è ben nascosta infatti c'è scritto attenzione è nascosta una in ogni mondo non ci sarà nel mondo super bonus però c'è nel mondo super bonus non ci sarà in capo il mio consagato però c'è in Arcipa Lago Interstellare Forestale del Cielo Polosio Congelato Lago dell'Illusione Città dell'Antica Legione del Re Questa macchina serve per appunto mettere i trucchi nel gioco ma bisogna approfondire un attimo di più ma come funziona esattamente la macchina dei trucchi? Allora occorre tornare indietro ai tempi dei primi dei primi di Spiro 2 e 3 ricordate quando dovevamo mettere in pausa il gioco poi premere la sequenza dei tasti per attivare il codice? Ecco, in Spiro e via South Venture non si farà più così bisogna per prima cosa girare nei mondi di casa a cercare la macchina dei trucchi una volta trovata bisognerà far mettere Spiro davanti alla tastiera lasciarlo fermo davanti alla tastiera per qualche secondo dopodiché verrà zoomato sullo schermo della macchina dei trucchi e noi dovremo immettere il codice, la sequenza di tasti qui qui c'è la scritta codice che viene man mano inserito e poi una volta finito di premere il codice che tasto si potrebbe usare? Ah sì ecco, si preme il pad centrale ok, premendo il pad centrale una volta finito di inserire il codice potranno succedere due cose se nessun trucco, se non abbiamo sbagliato il codice verrà una scritta rossa con su scritto nessun trucco corrisponde al seguente codice se invece una volta finito il pad abbiamo inserito un codice corretto che ci sbloccherà un trucco verrà fuori un nuovo trucco è stato imparato nome trucco, per esempio vogliamo imparare il trucco per far diventare Spiro Blu? verrà scritto un nuovo trucco è stato imparato colore blu Doren poi potrai attivarlo e disattivarlo a tuo piacimento nella voce trucchi del menu di pausa proprio così ragazzi questa frase qui Doren poi puoi attivarlo e disattivarlo a tuo piacimento nella voce trucchi del menu di pausa indica che quando Spiro in Area Salventure mette un codice sulla macchina di trucchi questo trucco viene imparato in maniera permanente infatti dopo aver sbloccato almeno un trucco sulla macchina dei trucchi aprendo il menu di pausa che nel mio gioco Spiro Area Salventure non sarà come nella Ragnite Trilogy ma sarà come i classici Spiro ovvero che si vede Spiro di sottofondo da cui non ce l'ho disegnato perché l'avrebbe tenuto via tanto tempo ma che si controlla con Spiro tra la voce opzioni e la voce aiuto si aprirà la voce trucchi cliccando su trucchi cioè confermando la voce trucchi avremo accesso a questo trucchi i colori che sono una sezione a parte più gli altri trucchi modalità testa grossa, modalità piatto potenzialmente con durata doppia sì, questo è un altro trucco che ci sarà e poi modalità ladri di uova allo scoperto cioè quello che gli toglie tutte le vende e come potete vedere hanno on e off mettendo Sparge su di loro e proprio metto X possiamo attivarlo o disattivarlo a nostro piacimento mentre la sezione colori ha una sezione tutta sua adesso lo vedremo comunque insomma avete capito che per mettere un trucco in area San Fernando non bisogna scrivere il codice ogni dannata volta che vogliamo usare il trucco ma basta metterlo una volta nella macchina di dunque poi lo avremo sempre nel menu e potremo attivarlo e disattivarlo a nostro piacimento come quando più ci aggrada la sezione colori invece sarà fatta così anche per i colori non sarà necessario ridigitare il codice in menu di pausa ogni volta come nei vecchi giochi ma la macchina di trucchi potrà farci imparare permanentemente anche questo con il trucco colore possiamo scegliere tra tutti questi colori disponibili sono un casino ragazzi perché sì e poi premere X per selezionare un colore il colore attualmente selezionato e quello che vedremo a Spiro sarà contrassegnato con un segno di spunta per far tornare Spiro al suo colore normale basterà semplicemente riselezionare il colore che abbiamo già selezionato a questo punto nessun colore sarà col segno di spunta e Spiro sarà col suo colore normale allora i colori per Spiro qui sono molti di più come avete potuto notare o altri che i classici rosso, verde, giallo, blu, viola, nero che erano quelli che si potevano mettere nei giochi classici di Spiro vabbè, viola forse era rosa perché quando lo mettevi poi Spiro diventava di un viola più acceso, quasi rosa ma comunque oltre ai colori classici sì, oggi mi sto impappinando mondo ragazzi, è da tanto che non faccio un video sto prigioniero di Azkaban è un po' che sto a caricarlo intanto non ho mai fatto Spiro a Resident Evil quindi capite un po' che mi sono arrugginito ma insomma oltre che i classici colori ci sono Manto Cometa che è il colore che avviene quando Spiro prende il potenziamento Cometa Manto Superfiamma che è il colore di quando Spiro prende la Superfiamma Manto Ciclone il colore di quando Spiro prende il potenziamento Ciclone Manto Gelido il colore di quando Spiro prende il potenziamento Criogeno Manto Superfiamma ovvero Spiro avrà i colori di quando ha la Superfiamma cioè sarà rosso e lampeggierà di giallo Manto Marino cioè il colore di quando Spiro avrà il potenziamento Trivella Marina Manto scuro, il potenziamento riguardo Spiro avrà il potenziamento ombra Manto della distruzione, ovvero il potenziamento riguardo Spiro avrà il potenziamento apocalittico Manto luminoso, il potenziamento riguardo Spiro avrà il potenziamento super luce E manto elettrico, il potenziamento riguardo Spiro avrà il potenziamento super tuono Allora, forse voi direte, ma sarà un po' un casino No ragazzi, perché dai, se Spiro ha il potenziamento o no, con questo luco basta capire veramente Se c'è con la barra accanto Comunque ho deciso di mettere i colori dei potenziamenti Come Colore dei trucchi perché andiamo Chi non ha mai desiderato giocare con Spiro Che avesse il colore rosso Sgargiante che lampeggia Di dorato come con la super fiamma Sempre O anche non lo so il colore di Bora non mi viene in mente Ma anche tutti i colori e le fantastiche skin Che ora gli vengono quando prende i potenziamenti Ecco Con questo trucco ragazzi potete far sì che Spiro Abbia l'aspetto dei potenziamenti senza necessariamente Che prenda il potenziamento Tanto se poi il potenziamento è effettivo inserlo Lo si può vedere dalla barra accanto della durata di potenziamento Quindi Questa è un'altra novità Molti più colori e Spiro potrà avere i colori dei potenziamenti Bene ragazzi Per questo episodio è tutto Lo so è stato un episodio breve e poco significativo Che introduceva una piccola novità E mi immagino già la vostra reazione 20 giorni di Spiro senza Spiro Ares Adventure per questo Eh lo so ragazzi Ma vi prometto che questo era l'ultimo episodio strutturato così Perché dal prossimo episodio ragazzi È arrivato finalmente il momento Vedremo i livelli che ho creato nel dettaglio al 100% La loro struttura proprio In ogni particolare Quindi ragazzi Per questo episodio era tutto I video di introduzione alle meccaniche di gameplay nuove Eccetera sono finiti Noi ci rivediamo Alla prossima Ciao Oddio Se mi viene qualche idea la metterò dopo Ma per adesso basta ragazzi Con le introduzioni Quindi dal prossimo episodio vedremo i livelli in dettaglio Ciao Spero vi sia piaciuto Spero vi sia piaciuto